Salve ragazzi e benvenuti su Minecraft 1.18 Ok, ci siamo, come vedete in alto a sinistra, siamo nella 1.18.1 addirittura Dico la verità, mi ero quasi scordato dell'update e quindi niente Siamo già alla 18.1, non so in realtà da quanto c'è Ok, prima che faccia il buio, sono su Allora, da questa parte è l'est Da questa al nord Ovest e sud Ora sud c'è tutto il mare E a ovest c'è tutto il mare più i ghiacciai Potremmo andarci, potremmo non andarci Comunque sappiamo che ci sono i ghiacciai, non sappiamo se c'è altro oltre Io direi di andare o a nord Anche se forse c'è l'acqua anche lì Anche se là in fondo vedo che c'è qualcosa Quindi anche sud, ovest non è da sottovaltare Quindi io direi la scelta tra ovest E est Nord e est Scelta nei sondaggi su Instagram Ok, ora è giorno Non voglio esplorare tutto Anche se siamo in 1.18 perché comunque arriveranno degli altri update Per esempio La parte del sottosuolo con quel nuovo boss Adesso non mi viene in mente il nome Comunque Chi segue gli update ha probabilmente capito Lì ci sono i ghiacciai Lì non sappiamo cosa ci sia Un po' di deserto, un po' di acqua, non lo sappiamo Quindi Ovest o nord A voi la scelta Chi aspetta la luce? Oh Ok 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 C'è Mi sa che l'esplorazione su Minecraft mi hanno preso alla lettera Fintroppo Questo è legno, sì Ok Noi mettiamo la terra Come si salta? Così a posto C'è anche questa Ce la mettiamo sotto Ehm Ok Non so come farò uscirne ma Proseguiamo mi viene da dire Sperando di non morire da creeper strani Ok Bene Voi mi avete votato nel sondaggio Di andare a nord Per di là Altro era di qua se non sbaglio E quindi Proseguiamo per di là verso quella montagna Vedrete Me in webcam Comunque Cercherò di stare più o meno Dentro Dentro È un po' altino qua eh Dentro l'inquadratura Abbiamo dell'acqua Per caso No eh Ok Direi di passare da casa Senza ammazzarci E Vedere cosa abbiamo Cosa abbiamo Da procurarci Prima di partire Intanto qualche cocomero in più Direi che non fa male Ok L'autosalto Mi ha già dato fastidio abbastanza Però per ora lo tengo Perché Perché si In certi punti in war Può essere comodo forse Prima mi abituo un attimo Perfetto Poi direi di prendere anche un po' di cibo Qui Allora direi di prenderci i semi E va Non so Non so Di distruggere tutto Però Perfetto Abbiamo messo una cassa qua Per caso Si Mi ricordo Vedete mi ricordo Tante si è passato tanto tempo Sono tasti rapidi Beh non lo so Facciamo così E basta Sostanzialmente Questo è Qua c'era una cassa Per caso Si Che comunque Non ci serve al momento Qui cosa abbiamo Niente di Troppo interessante Magari giusto Un po' di legno In viaggio Potrebbe farci comodo Poi ecco Magari si abbiamo Della lana Per farci un letto Vabbè che dormiremo Qui stanotte Però insomma Intanto prendiamoci Sul crafting table Allora Sbaglio sempre tasti Piccolo in diamante Per il momento Non lo so L'armatura Ce l'abbiamo Direi che non abbiamo L'armatura Perché se non sbaglio Eravamo morti Intanto vedete come si piegano Bene le braccia Anche se Si piegano meglio lì Che qua Però lì si mola Il gomito Che qua praticamente Non vedo Direi di dormire Beh direi che si dorme Proprio così Insomma Chinati davanti al letto Ma va bene Lo stesso Ciao Dunque sì Allora io però Mi prenderei A parte farmi l'armatura Almeno un minimo Prenderei almeno Le cesoie Se non La lana Insomma Dobbiamo farci anche il pane Vabbè che abbiamo Facciamo giusto uno Possiamo farcelo anche dopo Se ne abbiamo bisogno Eeeh Pepepepepepepepepe Boh Ah guardate che bello scudo E adesso però mi da solo fastidio Quindi lo tolgo Facciamoci giusto le torce Non so se c'è l'optifine qua dentro Per le torce più che altro Ma può darsi E spero di sì perché fa un bel effetto Comunque direi di partire verso nord Potrei aver sbattuto contro L'asta del microfono L'ho provato a spostare un po' comunque bene E aspetta come è che si corre Così in corso Si vedete c'è la scarpina lì Allora la qualità video Comunque si può ancora un po' migliorare Ma lì sono anche io che Devo capire bene come impostare il tutto E poi comunque È una roba in più Minecraft VR Che si scarica E si aggiunge a launcher tipo mod Ecco Ti pareva che non cadeva nel buco Probabilmente fatto da me con alcuni creeper Com'è che si salta? Così Ok Ma l'abbiamo detto Se lì Verso quel Quella Roba Quella di Si nuota che qua è bellissimo Perché fai così Vai su E puoi fare Allora Sì ma Non annegarmi Grazie Voi ho capito Passiamo dall'altra parte in fretta Grazie Poi magari sposto un po' il microfono Bello Mi sono un po' più in là Il microfono Voi dovreste comunque sentirci Ok Cosa sta succedendo Grazie Allora In baggio Sì ci sono le shader Però Non ho paura Mentre le che poi crasha Quindi al massimo ci proviamo alla fine Eh C'è subito un villaggio Qua dietro l'angolo Tanto mi da come se fosse ancora un'acqua Quindi magari è meglio provare a entrare Poi uscire di nuovo dall'acqua Ok forse non ci servono neanche le cesoie Perché qua ci sarà pieno di roba Intanto spacchiamo anche un paio di queste balle Magari un po' di le lasciamo Poveretti però Poi è brutto dire Spacchiamo le balle Comunque Sì Ah Una bella casa rialzata Eh no Salve pecore Ma io comincio da qui adesso In teoria Com'è che faceva Così Ma io posso fare tipo così Così per provare Non voglio assolutamente barare No no Mi sa di no Allora E via Ora direi di esplorare questa Casucola Però Andiamo a saltare Non così Ok E' un modo per giocare Minecraft Di modalità più difficile Senza la modalità più difficile Quanto sembra Facciamo così Stavo per cadere lo stesso Tra l'altro Ah Un nuovo banco da lavoro Grazie Mi serviva Scusi Mi scusi Ah prego Una cassa Ah non posso cliccare due volte Come su PC eh Ah sì Con l'altro tasto però E la bussola La bussola che ci può tornare utile La cassa per ora La lascio lì Tanto ce ne abbiamo anche altre Nel caso Ne prendiamo un'altra Qua abbiamo già un letto Che quasi quasi prendo su Mi dispiace per il proprietario Ma Ne ho bisogno C'è il sotto Ah l'erba Questa qua Intendo Mi dispiace Ti lascio una torcia Per ricordo Altri cocomeri Uh Bello Quattro smeraldi Subito pensavo due Non avevo visto Altri a cassa C'è un altro panino Che ci può tornare utile E qui non c'è più niente Ci sono due volte Addirittura Non ne bastava una Cerco come ci riprendiamo Uh Altro banco da lavoro Che se non sbaglio È quello che non funziona Esatto Oh Beh che bella casina Che c'è qui Ci sarà sicuramente niente Oh Questa ce la portiamo a casa Non ci sono più casse Niente Ah ma continua il villaggio Beh è bello grande Sì ecco Salve Mi scusi Pezzo qua di fianco Eh Non do fastidio Sai che ci sono già I mob Posso andare in giro così No eh Salve Buongiorno Ci diamo uno zombie Uno zombie con la spada Ci basta agitarla o no Non capisco questo Però Stiamo andando un po' a fuoco Mangiamo Ok Oh 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 Stavo per guardarti negli occhi Mi spiace amico mio No comunque penso di aver luttato Bene o male Tutto Non guardiamo più quello enderland Lì Che poi forse devo guardarlo Con il puntatore Non lo so Oh no C'è Ci mancava questo eh Non può non esserci per una volta No No Noi siamo venuti da qua C'erano le canne dal zucchero Se non sbaglio Sbaglio era di qua Infatti il sole è lì E no C'è qualcosa che non va Se lì c'è est Lì c'è ovest Il nord deve stare di qua Quindi noi siamo venuti da là Sì ok Direi che siamo venuti da qui Quindi noi proseguiamo di là Poi c'è la valle AB Non vedo in fondo Ma se di là non ci siamo andati Ma Mi stavo mangiando il pane Diceo ma simula Simula chi si gratta Comunque Non è male eh Ah stavo indietro Oh carbone Sono ancora su st'acqua No si stava semplicemente Ricaricando l'ossigeno Se non ho un altro paio di pezzi Poi vado Di star qui non c'è voglia Perché tanto poi Sta scendendo un attimo in miniera E volendo si trova Se proprio serve Azz Oh la vedo Vedo qualcosa Però abbiamo detto di rimanere Più o meno sul nord Un bel mare Un bel mare Allora A questo punto Mi sembra d'obbligo Una barca Ah non serve La pala Mi sembrava che Avesse riaggiunto Questa roba della pala Ma mi sto sbagliando io Allora la butto via Perché al momento Non mi serve Occupa spazio in inventario Unitarci via anche i semi Poi Ok Allora Oh Facciamo così Ok E' un po' strano Stare sulla barca Così Tagliamo cosa c'è là Ce lo segniamo Là c'è un'isola Tanto No lì altro deserto Ricordiamo che Questo è l'118 Quindi potremmo trovare Caverne Abnormi L'obiettivo Sarebbe anche Prova di esplorare quelle Col VR Se non in questo episodio In un altro Però magari Andiamo un po' più in là Troviamo qualche Posto nuovo Vediamo come è sottoterra Poi dovremmo esplorare anche La nostra Principalmente base Per vedere come è cambiata Col 1.18 Scendiamo qui per il momento Pugnetta Come dai pugni Cioè Avete capito? Le api Con alveare Ok Che in realtà Si torna indietro Alla 1.14 Ma O la 1.15 No L'1.14 Credo Ma io praticamente Le api Non le ho minimamente Mi sono Quasi interessato Perché Praticamente Avevo smesso la serie Non giocavo più molto Quindi Ho un po' passato Quella fase Infatti Mi sono visto qualche video Ogni tanto Ma non ho ancora ben capito Le varie meccaniche Delle api Un pollo Un pollo Un pollo Un pollo C'era il pollo Ah Eh Sono tutti amici No 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 Non ho fatto niente Io Andiamo via Questa roba Eh Una nave Una nave Una nave Subito 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 Sarà difficile esplorarla Sott'acqua In queste condizioni Però Va in base al punto No mi piace a questo Ok Non abbiamo più ossigeno Non so cosa Cosa vediate voi Dalla vostra parte Comunque Allora Andiamo muoviti Una cassa Allora Patate Ok Carote E il bambù C'è un piccolo problema Però Dove sono? Ma perché sono qui E la base è lì? Così Me lo son chiesto a caso E perché c'ho Eat me Oh Oh Ma Ma è tutto piccolissimo Ma io son gigante Ma cos'è sta roba? E' tipo un aiuto Per tornare a prenderla Ma vado lentissimo Ma forse non ero gigante Era solo un vo Ma che cosa? Vabbè Si scoprono cose Che non pensavo si stessero Pensavo fosse semplicemente Il modo per giocare in buar Invece si è scoperto Essere una trollata Per quando si muore E va bene In buar Aggiungerei Vabbè ormai è buio Vabbè Se no andiamo verso il villaggio Andiamo a andare velocemente Verso il villaggio Dormiamo Poi andiamo a riprenderci la roba E dopodiché Al massimo Proviamo si a ruttare La La barca Il relitto Però poi Magari Invece che esplorare Sempre più in là Possiamo andare un po' Sottoterra Sempre lì a nord Però Sottoterra Vedere un po' come sulle caverne In voar Poi Che io già non le ho giocate Praticamente In gioco normale Esplorarle Come si deve in voar Magari cadere Non me lo auguro Però cadere Dall'alto Dentro la caverna Morirci Con un creeper di fianco E mezzo cuore Deve essere un'esperienza Incredibile Che non voglio assolutamente far Non è così facile Da manovrare comunque Però Però è bello dai Ah è il simbolo del delfino Facciamo del delfino Nei dintorni Per caso No Non mi dà l'effetto Oh Mi giro una Mi distrago un attimo Succedono robe Run No 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 Ah una pecora Via 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 C'è un letto Lei signore Grazie Grazie Molto comodo Gentile E Scusi Buongiorno Cioè buonanotte Dormi Dorma pure lì Grazie Può risposarsi Ma niente Se l'hai presa Mi sembra molto di correre qua Però Vabbè Potremmo prendere anche un po' di legno E farci la barca Effettivamente Che non sarebbe male Anche se non ho molta voglia Quanto abbiamo preso il carbone Quanto ci siamo fatti la barca C'è ancora la nostra bella palla lì Allora facciamo così E via Questa la lasciamo per i passanti Grazie Tutto verso di Qua ma di là Insomma da questa parte Avrei pensato se fosse morto qualcuno Invece era un pesce No Ci sono girati Alla sotto cosa c'è un trono Una rovina anche Beh vabbè Cosa è qua sotto No forse non c'è niente Però A questo punto mi sembra di ricordarlo Ma dov'è che ci siamo fermati noi Qua Sì Esattamente da questa parte No Ah dall'altra Qua c'è ancora la nostra roba Abbiamo mollato quando abbiamo ucciso il pollo E qua Lì C'è la nave Perché ci servirà la porta Per l'ossigeno Vabbè adesso ormai che siamo qua Prendiamo la roba Prima che sparisca In teoria dovrebbe galleggiarmi O meno che non si è rimasti all'interno È probabile Ah vabbè è tutto uscito Ma basta tenere questo così Saltare diciamo Ma è giusto che sia poi Però non mi sembrava andasse prima Ok un po' di roba ce l'abbiamo comunque Non me lo voglio vedere qui sotto Prima però facciamo così Una porticella grazie Che non possiamo farci Proviamo a sfruttare il potere della TLAB Allora Oh Esatto Qui c'è un botto di roba ancora Ah ma lì c'è già Una parte col sicuro Oh cosa sta succedendo Sono spostato male io forse C'è qualche corrente Particolare C'è già la porta E qui c'è una cassa Oh la Una mappa del tesoro signore Qui c'è altro Non mi sembra Mi faccia passare però Non mi inonda d'acqua no? Ok Allora prendiamoci anche questa roba Qua Così Bambù E torniamo indietro qua Senza morirci Grazie Stiamoci in un'ultima posta di inventario Mettiamoci questa Sì funziona Che bello Che bello Guardate Si illumina mentre ce l'ho in mano Anche se adesso non ce l'ho in mano C'ho delle manine Invisibili Il nostro piccolo impietra Non c'è più però Oh sono io che ho sbagliato qualcosa Dove lo sparo Lo prendiamo Nel caso un giorno con l'Elytra Ci dovesse servire È lì la roba comunque No Il mio piccone Ma perché abbiamo l'inventario pieno forse Beh magari sarebbe anche il caso di mangiare qualcosa eh Ma noi ci rigeneriamo un attimo Oh abbiamo il nostro piccone Boh possiamo andare Più che altro Più che di qua Io direi di Tornare di là Abbiamo lasciato lì Il crafting table Vabbè Piove Bello però il suono della pioggia Così nelle orecchie Tranquillo tu sei dentro Però adesso ci saranno dei mostri Immagino Quello non è mica così tanto bello Allora lo prendiamoci qua in acqua Direi ciottoli come Non bambù Per muoversi E barca Così Direi che va bene Potremmo approfittare di questa pioggia Per provare a scendere un attimo in caverna Velocemente Poi magari Potremmo fare un altro video dedicato alla caverna Un po' meglio E guardare come è la nostra base Qua c'è già qualcosa che scende No Seduta l'acqua non lo voglia Poi bello starà anche nel tornare a casa Facciamo velocemente così Se ci cade un creeper in testa Rido E piango E piango Però adesso tengo aperto su Così evito di usare delle torce Così E magari dopo al ritorno Cioè Giusto per guardare Se si trova qualcosa E poi Finiamo qua Oh Eh Non è esattamente quello che volevo trovare Devo essere sincero È pur sempre qualcosa Sì ma adesso Siamo di fare la fine che abbiamo fatto prima Che facciamo così Abbiamo anche la luce in qualche modo Ah Non è che abbiamo una luce Mettiamo una torcia Bene Eh Ho usato questo No Beh ragazzi E io direi che per questo video Può essere tutto Fatemi sapere se vi è piaciuto E se volete altri video in VR Ovviamente iscrivetevi Eccetera eccetera Sento droned Forse serve meglio coprire anche qua Ok E Niente Ci vediamo nel prossimo video Dovrò editare tutto entro oggi Sono ben 48 minuti di registrazione Vabbè Spero che vado a tutto a buon fine Fatemi sapere Tutto tutto E niente Ciao 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 Ciao